Presidente, quanto sono importanti partite di questo tipo? Queste partite sono molto importanti perché dimostrano che il calcio non è solo quello che si vede in Serie A giocato, ma il calcio è anche di queste persone che vengono qui in terza categoria a divertirsi, che poi succedono questi episodi brutti, però purtroppo ci possono stare e fortunatamente è andato tutto bene e i giocatori, soprattutto dell'altra squadra, hanno dimostrato un free play eccezionale e quindi questo fa bene al calcio, fa bene a queste società piccole perché non è solo i grossi ambienti, i grossi soldi, qui giocano per divertirsi. Chi se ne importa dei risultati? Esatto, soprattutto quello. E stasera è stata una passeggiata, non amichevole, è una passeggiata. Adesso è finito in bellezza e andiamo avanti. Si festeggia adesso? Sì, si festeggia. Adesso mangiamo qualcosa, giusto uno stuzzichino, però giusto per stare insieme, per fare qualcosa di positivo tutti insieme. Il calcio è anche questo? È anche questo, sì, è anche questo. E soprattutto, da come la vedo io, il bello del calcio è questo. Il bello del calcio è questo. Allora, innanzitutto, come stai? Sto bene, grazie. Sei meglio? Sì, sì, sto bene. Peggio è passato. Insomma, è stato un brutto momento, però... È stato un momentaccio, insomma, adesso sto un po' meglio. Comunque volevo ringraziare i ragazzi da quella assata, che mi sono stati vicini, mi sono uniti a troppo all'ospedale, e tutto, e veramente vi voglio ringraziare di cuore, insomma. È importante che il calcio sia fatto di questi gesti, vero? Certo, è importantissimo. Della vera essenza dello sport è questo, in fondo, no? Certo, lo sport è anche questo, insomma. È questo. Della rivalità, però, anche... In questi casi, la rivalità, insomma, non conta noi, insomma. Quindi, chi se ne importa dei risultati? Sì, sì. Va bene. Sì.